Daniele Trombino Daniele Trombino è una vittoria che vale moltissimo nell'economia di questo campionato Certamente, è stata molto sofferta, grande partita, specialmente dopo essere stati in svantaggio abbiamo veramente dimostrato che siamo un gran gruppo e vogliamo arrivare alla fine del campionato primi in classifica La tua prestazione è un'incertezza sul loro gol e dopo ti sei riscattato alla grande? Sì, a volte quando fai il portiere capita, l'errore del portiere si vede subito però l'importante è continuare con la testa giusta e dare fiducia alla squadra Voi siete due portieri, vi impegnate tantissimo, come vivete il turnover che applica il mister Pagassone? Molto serenamente, siamo due portieri che siamo praticamente uguali, gioca l'uno, gioca l'altro la squadra non ne risente, quindi tranquillamente non abbiamo nessun problema Le aspettative da qui alla fine? Come ho detto, riusci a vincere il campionato Mister Maggi, un'ottima prestazione, una grande partita ma non è bastata? No, questo sport se non si segna è difficile riuscire a portare a casa punti Comunque i ragazzi sono stati veramente eccezionali Abbiamo preparato molto bene questa partita perché d'altronde andavamo a incontrare una delle due prime della classe Sapevamo, all'andata eravamo stati sconfitti, sapevamo che si mettevano molto bene in campo Grossa difesa, ottimi giocatori, ottima individualità I miei ragazzi non posso dire altro che bravi perché credo che più di questo non potevamo fare Certo, il gol magari, uno o due gol in più magari ci possono stare Infatti ci sono state parecchie occasioni divorate e loro invece sono apparsi più cinici Questo sport chi sbaglia paga, lo sappiamo dal calcio a 11 al calcio a 5 La regola è più o meno uguale per tutti Con due ripartenze e una disattenzione abbiamo subito tre gol Noi ce ne siamo mangiati diversi, non siamo riusciti a concludere, non siamo riusciti a essere cinici come hai detto te Questo potecora, nonostante l'assenza di Cristofoli, si è dimostrato comunque una squadra quadrata E che ha degli ottimi, diciamo, alternative Diciamo che Dennis è la ciliegina sulla torta, ma la torta è costruita, è fatta bene Da un ottimo pasticcere, che il mister ha lavorato bene, si vede Abbiamo trovato diverse difficoltà ad entrare perché comunque abbiamo quelle poche occasioni Ecco, perché ne abbiamo avute diverse, però perché ce l'hanno fatta sudare tanto, tanto, tanto La difficoltà fisica che ha incontrato Crepaldi può aver influito nell'economia della gara? Sì, anche se è una rosa abbastanza ampia e completa, dove i giocatori più o meno sono intercambiabili Però Alessio questa sera era in forno, ha sbloccato la gara, erano passati in vantaggio Era agonisticamente cattivo al punto giusto, nel senso che comunque senza andare oltre la linea Fino a quel momento, diciamo, non dico che era stato il trascinatore, però comunque aveva fatto un'ottima partita Però chi è entrato, chi ha giocato al posto suo successivamente con più minutaggio non ha assolutamente demeritato Perché fino all'ultimo siamo stati in partita, anche se sotto di 3 a 1, comunque siamo stati abbastanza in partita a gestire palla Aspettative da qui alla fine del campionato? A continuare fino alla fine quello che abbiamo fatto oggi Poi ci sarà la Coppa, speriamo di toglierci qualche soddisfazione in più Ma fino ad oggi, diciamo, il campionato per una società neonata è vero con diversi giocatori che erano già anni che calcavano questi campi Quindi diciamo che con abbastanza esperienza E devo dire che per una società neonata abbiamo fatto un ottimo lavoro Si spera di riuscire a lavorare bene e continuare a lavorare così bene anche per il futuro Devo dire grazie alla società che mi ha messo a disposizione una rosa così completa Per poter continuare a lavorare per quest'altro anno Grazie mister Grazie a voi